salve a tutti ragazzi bentornati o benvenuti sul mio canale benvenuti in questo nuovo video continuiamo la nostra avventura qui in project zomboid ci troviamo all'interno della nostra base abbiamo sistemato un po tutto il piano terra quindi abbiamo coperto le finestre le porte tutto quanto quindi diciamo che stiamo cercando di organizzarci meglio rispetto alle puntate bel po di puntate scorse cerchiamo appunto come vi ho detto di sistemarci e anticipare un po quello che sarà poi diciamo la fine delle varie utenze quindi sia l'acqua e poi successivamente l'elettricità quindi quest'oggi andremo ovviamente in esplorazione dobbiamo ancora cercare un qualche cosa che può servirci uno zaino qualcosa che può aumentare insomma il numero di cose che possiamo portarci appresso perché adesso ovviamente siamo limitati al solo inventario del nostro personaggio andiamo a vedere la mappa perché ovviamente abbiamo segnato tutte le cose che le case che siamo andati ad esplorare ci manca in verità tutto quest'altro pezzo giusto per finire questo mega quadrante e queste queste strutture in blu che effettivamente bisognerebbe capire bene che cosa sono qui mi sa che c'eravamo già andati perché insomma ci ho messo il punto esclamativo quindi bisogna un attimo vedere bene com'è la situazione ora non so se abbiamo una maggiore possibilità di trovare qualcosa di utile in queste zone qui per quanto riguarda appunto lo zaino un bolsone o roba del genere tra l'altro dobbiamo rifare anche scorta di di cibo perché insomma piano piano sta sta finendo quindi prima di andare intanto beviamo che ci abbiamo un po di serie siamo anche annoiate ma insomma ora riusciamo e facciamo un po di azione direi che non dovremmo più cazzo non dovremmo più essere annoiati allora sono già le 17.30 in verità vabbè alle 18 in teoria ci dovrebbe essere il lo spettacolo diciamo in tv da andare a guardare magari lo possiamo andare a vedere nel nell'intero delle altre case perché se non ricordo male comunque hanno la tv eccola quindi approfittiamo già che siamo qua allora azione dispositivo accendi come avete detto va benissimo ma anche a livello 1 sincronizziamo direttamente il canale così stiamo siamo già pronti e mi avete anche suggerito eventualmente avessi insomma qualcosa da leggere di farlo mentre stiamo facendo diciamo la visione del del programma così insomma facciamo due cose contemporaneamente e non è non è affatto male allora qui sono ancora i 17.50 manca ancora qualche minuto non so se qua c'è il c'è ancora qualcosa da mangiare o ci siamo già portati via tutto mi sa che ci siamo già portati tutto anche dentro lo freeze si c'è la roba che in teoria dovremmo andare a cucinare allora dovrebbe essere iniziato eccoci ok nel mentre mi sa che ho qualcosa appresso sì le sardine scatole mangia ne metà così poi magari già che stiamo appunto cercando qualcosa vediamo se asciughiamoci se troviamo anche del cibo ovviamente allora mi sa che le sardine sono belle che finite infatti abbiamo la lattina vuota lasciamo per terra aspettiamo che passi siete sul pavimento il diciamo lo spettacolo in modo da aumentarci un pochettino le skill perché insomma abbiamo visto che dà veramente un bel boost quindi usatelo anche voi ragazzi se non sapete ancora questa cosa me l'avete detto a voi vi ringrazio perché non sapevo di questi diciamo spettacoli programmi che vanno in onda tra virgolette in orari prestabiliti questo qua su su questo canale che life and living living tv va in onda alle 6 alle 12 e alle 18 quindi può sicuramente tornarci utile appunto per aumentare le nostre abilità ok credo che sia finito sì perché non parla non fa più niente quindi deduco che sia bello che è finito vabbè possiamo spegnere e continuiamo la nostra esplorazione che tra l'altro sta anche facendo notte e magari non è proprio il caso andando in giro appunto di notte allora qui attenzione c'è addirittura una macchina ci siamo stati qua? sì c'è la X però io della macchina in verità non me la ricordo o non ho guardato questa zona e quindi non l'ho vista ma mi sembra strano insomma che me la so persa così allora vediamo qua allora giardino lemiera giornale cavo elettrico videogioco vabbè non farà niente di che diamo un'occhiata veramente veloce in casa mentre che ci siamo dimenticati qualcosa e qua è pure chiuso addirittura ok lasciamo l'aperta cavo elettrico sandali mi serve la cucina in verità forchetta ok c'è un po' di roba carne in scatola carote chili zuppa e mais e mi sa che con questa abbiamo eh stiamo anche ben oltre il limite del nostro personaggio però veramente proseguiamo giusto per vedere perché se no col fatto ecco che siamo un po' accaldati adesso siamo un po' strettini con il nostro inventario siamo vestiti per forza fa avanti e indietro e praticamente non fanno quasi quasi niente di esplorazione nuova allora qui non ho lasciato il la tv accesa vediamo se troviamo qualcosa qui ci sono addirittura due finestre quindi abbiamo due possibilità ok ce ne basta uno aspettiamo sempre un attimo per constatare in caso io scattasse all'arma anche se pensa che qua no è più probabile che scatti dentro dentro casa allora cassetta degli attrezzi che non è a male chiave inglese pure che non è male dovrei avere ce n'è già una sì che questa è già un po' a mezzo e mezzo io quasi quasi la switcho e ci prendiamo quella con più ehm più condizioni insomma quella che sta un attimino meglio ehm martello pure non sarebbe male il problema è che siamo belli belli carichi dannazione allora intanto abbiamo fame quindi approfittiamone per aprirci una scatola di di cilio e magari ce la mangiamo così andiamo anche a diminuire il nostro peso complessivo perfetto e la lattina vuota ovviamente la lasciamo qua dentro e sta roba in verità mi dovrebbe dovrebbe servire però per il momento la lasciamo qua idem alla cassetta degli attrezzi insomma qua è tutta roba che potrebbe tornarci comodo ok lasciamo aperto tra l'altro io non ho manco guardato se qua la macchina si apre o meno ci sono passato ma non ho fatto niente allora vabbè tutta roba in scatola che potrebbe tornarci assolutamente comodo però ecco a noi ci serve cibo per chiani magari no serve qualcosa per oh mazza guarda la roba qua pesca avanzata trappola per principianti per cui c'è un sacco di roba ma dobbiamo venirci un'altra volta intanto bevi allora prendi fondotinta pettine e rasoio fasciatura magari prendiamo solo la fasciatura ok e nient'altro ah non è la la tv pensavo fosse la tv invece c'è si vede che c'è qualche qualche radio qualcosa è dall'altra parte eh sì ancora qua opzione espositivo spegne ok allora giacca calzini guanti di pelle beh qua addirittura la giacca è migliore di quella che abbiamo noi però pure i guanti di pelle sarebbero migliore e mi sa che queste ce le indossiamo perché abbiamo quelli senza senza dita diciamo quelli tagliati soltanto al palmo della mano che ovviamente non vanno a a difenderci proprio tutta tutta la mano allora in teoria qua dovrei dovrei ritornarci perché comunque non è che abbiamo proprio preso tutto quanto quindi per il momento non vado ad aggiornarmi la la mappa faccio un salto anche qua finché siamo in giro anche se abbiamo fatto cacciare e gli zombie ovviamente ci hanno sentito dobbiamo prestare dobbiamo prestare attenzione perché siamo sopra sopra dimensionati con il nostro inventario è più smussato addirittura ok non ho capito che è smussato cosa faccio a riferimento al combattimento perché è aumentato adesso scusa eh e abilità sì smussato ok non so cosa come sia stata diciamo tradotta perché sembra più il combattimento con le armi bianche perché non c'è mai aumentata quando adesso che stiamo comunque utilizzando solo armi bianche mi viene da pensare a quello ok alzini no sto vedendo ovviamente se c'è qualcosa di utile vediamo un po' se suona là dentro là dentro viscio per poco poco ci pigliava ok chiudi finestra ok stiamo asciugati devo prestare attenzione perché se siamo troppo carichi come adesso e facciamo troppo movimento rischiamo di affaticarci e addirittura ci scende pure un po' la vita generale serve qualcosa per trasportare più roba allora intanto spegne sta tv che non ci serve per il momento ok vediamo un po' cosa troviamo qua come sai i generatori foglio di carta questa è pure tutta roba che in teoria potrebbe tornarci comodo addirittura anche le alle cassette le VHS possono tornarci comodo per per studiare però adesso non voglio riempirmi più di quanto già non lo sia ma questa è la porta per entrata e niente qua pure ci ha detto sfiga questa è una bottiglia dire di se questa ce la prendiamo perché stiamo cercando di farci una sorta di scorta di acqua o già una bottiglia piena d'acqua nella nella nostra base e con questa le brutte o la svuotiamo perché dentro sicuramente c'è c'è dell'alcol a parte fame sedia questa magari bevila basta che non si embriaga perché sennò è finita ok te pare alticcio abbiamo bevuto un pochetto vabbè dai stavamo pure mezzo annoiati perlomeno ma sarà un pochettino più felice in questa in questo mondo in cui ci siamo solo noi e zombie quindi dai ci sta ci sta dovrebbe essere qua se non ricordo male sì esatto secondo me siamo entrati nella porta dietro e non avendola mai inquadrata non me ne sono manca accorto che c'era comunque vediamo un po' se ci si può entrare sì c'è qualcosa dentro caffetta scaccia carta igienica sigarette walkie talkie eh qualcosa c'è in verità walkie talkie ci servirebbe proprio in niente ovviamente le chiavi non ci sono vediamo come è sistemata diciamo in maniera diciamo meccanicamente parlando allora sembra ottima in verità però senza carburante ovviamente però tutto il resto non è male porta anteriore e sinistra al 43% ma è l'unica nota negativa a parte che è senza benzina per il resto però è tutto tutto otto infatti condizioni in generale 76,32% insomma che non è assolutamente male mettiamoci un segnalino qui così possiamo ricordarci che c'è qualcosa qui da andare a a controllare certo ora bisognerebbe capire effettivamente come poter mettere in moto purtroppo non abbiamo le abilità per magari scassinarla o accenderla coi fili quindi per il momento dobbiamo sperare soltanto di trovare le chiavi allora diamo un'occhiata anche al manganello perché siamo veramente lì lì che ci abbandona quindi prestiamo insomma un po' attenzione che non vorrei che mi appunto nasse proprio nel momento in cui ci sono più zombie da andare a sistemare controllo sempre che magari qualcuno in zona qui abbia le chiavi allora controlliamo un attimo qua qua in verità ci siamo venuti c'è tanta roba ma niente che possa servirci non le sto scrivendo apposta perché comunque le dobbiamo andare a ricontrollare per bene questo questa parte è chiuso ma non ha neanche una finestra sfiga cazzo ecco dietro niente così proprio e niente questo non lo possiamo aprir a meno che non lo sfondiamo ma non possiamo fare niente allora vediamo un attimo anche questa casa come abbiamo detto cerchiamo di farci il giretto delle delle villette che sono qui in questo riguadro così sappiamo che le abbiamo controllate e stiamo un po' oh cazzo quanti non stanno avvenendo qua occhio perché che altro per il ecco infatti lo stavo a dire per il manganello che si è rotto allora questo lo lasciamo qui in pugno primario ok oh cazzo e dai porca puttana ci ha morso ma dai e sanguinavamo pure dannazione che cazzo di sfiga dannazione cazzo il primo che ci ha che ci hanno becchiato effettivamente ci ha morso credibile credibile a parte che non mi sono manco più rimesso la maglietta maniche lunghe che c'avevo sotto infatti questa la resistenza insomma però niente di che comunque sarebbe stata uno strato uno strato in più niente dannazione non ci voleva assolutamente non ci voleva vabbè calma per il momento è tutto ok cerchiamo di fare le cose insomma con calma non è detto che ci trasformiamo insomma certo avremmo dovuto disinfettarla però per il momento va bene anche così anche la fasciatura così va bene allora vediamo se riusciamo a entrare ok perfetto chiudi finestra ok allora eeeh bevi va già finita già stiamo con l'acqua così stiamo acqua 18 di 20 quindi non è più limitata mamma mia già finita pensavo di averci più tempo sinceramente invece no eh qua c'è un sacco di roba da mangiare fasciatura sporca rimuovi eeeh bende adesive vaffanculo eppure infetta la nostra cosa dannazione non ci voleva assolutamente eeeh allora lava 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 possiamo lavare le bende sciocamano asciugati non c'è niente per disinfettarci proprio niente di niente da nazione la pistola la camicia formale vabbè la pistola può pure sta qua ci interessa per il momento e no veramente niente sardine sardine scatola vabbè portiamoci qualcosa di per quanto riguarda il cibo perché altrimenti qua stiamo stiamo in piccino no cibo per cani magari per il momento noi fagioli pomodori e sardine la zuppa la zuppa di funghi e la zuppa in scatola ok niente altra roba che dovremmo controllare mi preme di più cercare di sistemare questa ferita più che altro perché è già infetta cioè cazzarola ho morso infetta e mazzetta asse la rica di benzina pota a parte ce l'abbiamo l'estintore ci manca però insomma qua c'è pure il generatore che non sarebbe ho fatto male fasciatura sporca ancora che cos'è prende straccia ok sanguiniamo pure dannazione veramente non ci voleva ragazzi assolutamente questa addirittura aperta buono allora vediamo un attimo canavaccio piatti bisogna cercare di allora lava lo stesso un attimo ok come stiamo messi abbiamo tre fasciature perché tre 12 stracci vabbè non è non è affatto male però ripeto servirebbe a parte qualcosa da mangiare che magari possiamo prenderla pure da qua mangia una pera mangia pure un pomodoro già che c'è sei un po' di frutta insomma tutta vitamina non è non è male servirebbe qualcosa per curarci sta cavolo di ferita qua non c'è assolutamente niente al bagno non c'hanno i disinfettanti niente proprio niente c'è manco il mobiletto per la per le cose niente fasciatura dai rimuovi benda e metti fasciatura ok vediamo un po' questa proprio zero possiamo pure metterci nei x c'erano sempre le cose da mangiare che dobbiamo andare a recuperare però in linea di massima veramente veramente niente in verità qui però ci mettiamo il punto escamativo perché c'è il generatore che quello in teoria andrebbe trasportato che insomma non è non è affatto male come cosa in verità non so se in base abbiamo qualcosa per quanto riguarda insomma i morse eccetera per poterci cercare di disinfettarci la la ferita insomma perché comunque è pure infetta quindi non è che proprio sta andando benissimo la nostra la nostra ferita ecco quindi dirigiamoci di nuovo verso casa e vediamo se riusciamo a fare qualcosa magari facciamoci anche una corsetta anche se siamo belli accaldati annazzone non ci voleva poi la prima la prima che ci non ci hanno mai morsa avremmo ammazzato zombie come se non ci fosse un domani la prima che ci prende ci morde ci infetta la ferita porca trota e stiamo di nuovo impicciati adesso dannazione allora quindi vediamo un attimo eh si l'acqua è finita l'acqua è finita signori e questo e questo è un problema allora vediamo un attimo vediamo un attimino questo questo in teoria è alcol non possiamo disinfettarci con l'alcol allora a parte il cibo lo posiamo così iniziamo a toglierci un po' di peso vediamo un po' se me lo fa fare magari di disinfettare lo straccio ma non credo no infatti no vabbè poco male insomma dai e allora siamo umidi asciugati ok siamo doloranti e niente vediamo se veramente qualcosa abbiamo noi qui ma magari me lo so me lo so scordato vabbè qua no se c'è o è sopra oppure è qui dentro ci abbiamo un po' tutta questa è più oggettistica per ehm per creare le cose insomma per il crafting liquidato di argente no non ci abbiamo niente niente di che vediamo un po' se sta sopra eh dannazione non ci voleva questa ragazzi assolutamente non ci voleva lenzuolo vitamine questa la prendiamo magari prendi pillole cintura per capelli no niente rimuovi benda fasciatura è rimasto è rimasto è rimasto morso e infetto dannazione e allora pulisce i bendaggi tutti ok qui quanta acqua mi è rimasta 100 di 100 dannazione non posso disinfettare non posso farci niente qua pensavo di poterlo fare magari ecco la bottiglia dell'alcol che ne so ho capito che insomma il liquore che altro però comunque è sempre un disinfettante quanto pare non è così allora ragazzi qui la situazione è quella che è non proprio erosia pensavo in verità di durare un po' di più più che altro ecco c'è andata anche a finire l'acqua quindi qualsiasi cosa riusciamo a recuperare dobbiamo assolutamente prenderla e portarcela insomma vediamo un po' questa possiamo fare una cosa potrei che non me la fa rovesciare a terra tipo qui sta eccola solo bevi ah verso a terra mamma mia pure ciecato ok ora la riempiamo di acqua riempi bottiglia vuota perfetto e la mettiamo qua insieme alle altre questo ovviamente ragazzi se riusciamo a magari a sopravvivere con questo personaggio ottimo altrimenti è comunque un bel punto di partenza per l'eventuale altro personaggio quando quando questo purtroppo ci lascerà allora ragazzi che dirvi che possiamo aspettate velocemente prima di salutarci magari sono ancora in tempo per vederci dove cacchio sta se è un dispositivo niente alcune volte mi perdo proprio eh cazzarola 14 e 20 ah no non è la 14 è la 12 niente 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 è 6 12 18 non è niente c'è tra niente i 14 allora ragazzi che dirvi mi stavo dicendo insomma prima siamo un po' messi maluccio in quanto purtroppo il primo morso che ci hanno dato ce l'hanno dato fatto bene quindi ci hanno tutto morso e la ferita è infetta è terminata l'acqua anche se insomma siamo riusciti a sistemarci già qualche bottiglia però ovviamente dovremmo incrementare un po' di più la diciamo la nostra scorta è anche vero che andando poi eventualmente a passare le case che abbiamo già visto potremmo andarci a prendere quella che è ancora presente all'interno delle tubature quindi comunque sia qualcosa la riusciamo ugualmente a recuperare quindi io come sempre ragazzi vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo vi invito se vi fa piacere a lasciarmi un mi piace un commentino a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e in alto a destra la i che vi riporta la perdista del titolo in caso in cui avrete saltato qualche appuntamento di nuovo vi ringrazio vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao